Presidente della provincia di Ascoli Piceno, Piero Celani, ma le province non saranno più rielette, gli organi politici non saranno più rieletti dopo le decisioni del governo Renzi. Cosa pensa di questa scelta? Ma io l'ho detto già negli anni passati, insomma, è una riforma monca, è una riforma che francamente non ha ragione di essere fatta in questo modo, perché o se le province restavano così come erano, ovviamente riorganizzando, riaccorpando naturalmente i territori, lasciando gli organi elettivi, eliminando gli enti di secondo grado e dando a loro tutte le funzioni, oppure venivano tolte completamente dalla Costituzione italiana. Si è scelta in questa fase transitoria una fase a metà, che francamente non porterà nessun risparmio, e questo l'ha detto anche la Corte dei Conti, ma soprattutto porterà una serie di servizi in un periodo transitorio che non si sa quanto possa ovviamente durare. Comunque, insomma, una riforma credo che è stata fatta sull'onda proprio di questa antipolitica, su questo populismo che oggi dilaga naturalmente in Italia e che credo stia facendo molti e molti danni. Mi auguro naturalmente che nel percorso di assestamento da qui a fine anno si possano trovare i giusti, chiaramente, rimedi per far sì che i servizi perlomeno possano essere continuati a dare ai cittadini. Noi rimarremo in carica, prorogati fino alla fine dell'anno proprio per i presidenti, ovviamente proprio per traghettare questo nuovo ente nella nuova funzione di ente di secondo grado. Però, insomma, credo che qualche correttivo vada in questa fase transitorio, vada messo a punto. È stato anche sindaco, la nostra provincia, ma un po' in tutta Italia, molti comuni sono composti da piccoli, piccolissimi comuni. Senza la provincia come potranno organizzarsi? Dovranno costruire, diciamo, delle nuove reti extracomunali? Sì, credo che dovranno costruire attraverso l'Unione, attraverso la gestione in forma associata di molti servizi, una collaborazione naturalmente stretta, perché da soli non possono assolutamente andare avanti, perché viene meno quel principio di sussidiarietà che la provincia aveva messo in atto nel modo giusto in tutta Italia. Noi in modo particolare su questo territorio, proprio perché avevamo dei comuni addirittura di poco più di 100 abitanti. E quindi devo dire che è tutto un ripensamento nella gestione dei comuni. Credo che si vada anche attraverso la fusione di molti comuni, così come la legge vuole e così come forse sono costretti a fare. Staremo a vedere, ripeto, andremo verso un periodo di riorganizzazione molto molto difficile e speriamo che non sia il territorio a pagare le conseguenze.